Vederlo al Quirinale, Draghi, siccome però lei ha detto che deve finire la legislatura, questo Presidente del Consiglio, vuol dire che Draghi non è il suo candidato per il Quirinale? Guardi, io ho sempre detto, lo ripeto anche qui, che ci sono talmente tante priorità in questo momento. La scuola che è ricominciata non deve tornare in data. Se lei dice che Draghi deve andare avanti fino al 2023, l'anno prossimo non può fare il Presidente della Repubblica. Io dico che di Quirinale parliamo da gennaio in poi. Adesso concentriamoci sulle questioni. Oggi il governo ha fatto cose importanti, il caro bolletto che è stato calmerato. Va bene, volevo solo sentire... Concentriamoci su queste cose. Massimo Giannini, scusate.